ciao a tutti oggi vi faremo vedere come pulire l'origano con il bimbi andiamo a posizionare i rametti dell'origano all'interno del boccale chiudiamo il coperchio mettiamo il misurino e andiamo ad azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4 anti orario andiamo a rimuovere il nostro coperchio il risultato sarà il seguente versiamo il tutto all'interno di una ciotola e andiamo a rimuovere i rametti che sono rimasti come noterete il rametto è perfettamente pulito al termine avremo ottenuto questo risultato dov'è eliminato tutti i rametti piccolini che poi successivamente andremo a eliminare e adesso andremo a riempire una boccia con l'origano il nostro origano è pronto si conserva per un anno in un luogo fresco e asciutto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti